Buongiorno, oggi parleremo del moto della molla e poi in generale di un moto chiamato moto armonico. Ma prima volevo fare un breve riassunto di quello che vi ho detto in precedenza. Allora, un tipo particolare di forze sono le forze elastiche. Ora, non sappiamo che in generale un oggetto può essere deformato da una forza. Però la forza che lo riporta come era prima viene chiamata forza elastica. Una deformazione elastica, infatti, è una deformazione in cui poi è possibile ritornare allo stato precedente. La forza che riporta l'oggetto allo stato precedente si chiama forza di richiamo o forza elastica. Per studiare le forze elastiche si sceglie come oggetto la molla. E' chiaro che anche una pallina di gomma viene deformata in maniera non permanente, ritorna come era prima. Ma è anche chiaro che la deformazione di una pallina di gomma viene in tutte le direzioni, mentre la deformazione di una molla solo in una direzione che poi è la lunghezza. E quindi la molla è più comoda. Anche più dell'elastico, perché l'elastico c'è visto che ha deformazioni un po' più irregolari. Detto questo, vi ricordo che abbiamo visto che la molla segue la legge di Hooke. Legge di Hooke che praticamente in formula si scrive in questo modo F uguale a meno K per X dove F è la forza di richiamo, quella che riporta la molla allo stato precedente. K è una costante che dipende da quanto rigida la molla e X è l'allungamento. E il meno nella formula ci indica che in pratica la forza di richiamo è sempre opposta all'allungamento. Cosa vuol dire in termini concreti? Che se io comprimo una molla, la forza di richiamo la espande. E se io espando una molla, la forza di richiamo la comprime. Questo è il discorso in generale. Detto questo, allora vediamo invece una cosa nuova. Come si muove questa molla una volta che io la comprimo o la espando? Allora, se io comprimo una molla, allora cosa succede? La forza di richiamo la espanderà. Però cosa succede? Che la espande fino a un certo punto, ma poi, a questa espansione, seguirà una compressione. Quindi si comprimerà da sola questa molla, cioè da sola, per effetto della forza di richiamo che nuovamente agisce in maniera apposta a questa espansione dovuta alla forza di richiamo precedente. Quindi in pratica, questa molla, se io l'ho compressa, si espande. Poi è arrivato a un certo limite, si comincia a comprimere, si comprime, si comprime, finché arriva a uno stato di lunghezza minima che è sotto quella iniziale. E poi il processo riparte, ed è un processo ciclico. Quindi, in buona sostanza, avremo sicuramente un moto oscillatorio. Moto oscillatorio. Questo moto oscillatorio, teoricamente, andrebbe avanti all'infinito. In realtà è rallentato, smorzato, potremmo dire, dagli attriti. Quindi le oscillazioni diventeranno poi, concretamente, sempre più piccole finché si fermerà. Se comprimiamo la molla succede la stessa cosa, cioè prima si espande e poi si ricomprime, eccetera. Quindi sempre un moto ciclo. Allora, noi possiamo dire che in generale ogni moto che sia dovuto a forze elastiche può essere chiamato moto armonico. Cioè, è proprio la definizione di moto armonico in cinematica. Quindi un moto oscillatorio, comunque, però dovuto a forze elastiche. Cosa vuol dire? Dovuto a forze in cui tra la forza e l'allungamento sussiste una proporzionalità diretta, che è proprio quella della Vesidiouk. In termini concreti vuol dire che se la forza di un newton corrisponde a un allungamento di un centimetro, allora di un newton si spenderanno due centimetri, per fare un esempio con numeri semplici. Ma tutto proporzionalmente. Questo è un po' il discorso. Allora, ogni qualvolta noi abbiamo un moto oscillatorio, che però è dovuto non a una forza qualunque, ma a una forza di richiamo che agisca, secondo le leggi di Uc, quindi con una proporzionalità diretta tra forza e allungamento, allora questo moto oscillatorio possiamo chiamare moto armonico. Ecco, mi fermerei qui. Prossimamente vedremo come il moto armonico possa essere definito anche senza parlare di forze. Comunque, una cosa alla volta. Arrivederci.